A giusta conclusione di quest'estate c'è questa bellissima festa, quindi settima edizione di Disco Diva, grandi ospiti, non possiamo ballare perché conosciamo l'enorme Covid, ma è comunque una gran bella serata, quindi ci aspettiamo che la gente si possa divertire per chiudere in bellezza l'estate. Balleremo sulle sedie, ma non sopra le sedie, ma seduti sulla sedia, quindi buon divertimento, vi aspettiamo a Gabice Mare e a Gabice Monte il prossimo anno e quest'anno poi un'edizione speciale, oltre che essere una limite di Disco, perché vede questa partnership importante con Gucci, Mini, oltre al nostro sponsor storico Riviera Banca. Quest'anno è un'edizione particolare perché abbiamo uno step molto grosso, infatti vediamo l'ingresso della Maison Gucci che ci accompagnerà in questo festival. Sicuramente il nostro intento è quello di, come dicevo poc'anzi, di reiniziare a prendere possesso della nostra vita che per due anni, ahimè, è stata tolta. Quindi anche proprio a livello psicologico ripensare alla musica, non solo estremamente come ballo, ma anche proprio di uscire fuori dai problemi che ci hanno assillati in questi anni. Quest'anno, come dicevo, sarà un grande giro di mito, un'edizione particolare che aprirà la strada a delle edizioni sempre più importanti. La disco assolutamente non è un genere datato, anzi anche i giovani, ieri sera abbiamo una pleatea di giovani veramente, cioè sotto i 30 anni. E questa è la dimostrazione, quindi Disco Music per sempre. Disco Diva è una delle carte fondamentali che da sette anni ad oggi ci tocchiamo, anno dopo anno, un evento che sta crescendo in maniera esponenziale. Abbiamo già, sin dalla prima edizione, comunque avuto la fortuna di accogliere sulla nostra piazza principale dell'evento, che è Piazza Valbruna Gabicemonte, degli artisti internazionali, che sono cresciuti negli anni. Quando abbiamo pensato a questo progetto, insieme alla direzione artistica, ai fratelli Tassinari, al sindaco, è stato un progetto veramente che è nato da uno studio approfondito, non assolutamente a caso. E abbiamo proprio scelto Gabicemonte perché qui è nata la storia della Disco Music italiana, con la nascita della Baia degli Angeli, con l'Eder Rock, con tutti questi locali che negli anni 70 hanno cominciato a popolare la riviera e a rendere comunque questo nostro territorio attrattivo anche da questo punto di vista dell'evento e quindi senza ombra di dubbio Gabicemonte è Disco Diva.